E perché nel PNRR risultavano anche dei provvedimenti che con i tempi, particolarmente per i tempi stringenti che il PNRR ha, rischiavano di andare dispersi, opere che non si sarebbero potute realizzare, soldi che ci sarebbero stati chiesti indietro. Abbiamo fatto questo lavoro di sistemazione, abbiamo trovato per quello che usciva dal PNRR fonti alternative di finanziamento, abbiamo liberato 21 miliardi di euro di PNRR da investire su nuove priorità. E quelle priorità sono state e sono il sistema produttivo, oltre 12 miliardi di euro di questi 21 vanno alle imprese di questa nazione, vanno alle imprese di questa nazione particolarmente per il tema dell'efficientamento energetico, per la questione agricola, agrivoltaico, piuttosto che contratti di filiera. Ora oggettivamente non abbiamo avuto bisogno di vedere i trattori in piazza per sapere che il mondo agricolo oggi sta affrontando delle difficoltà. Noi abbiamo un contesto nel quale i costi di produzione aumentano, i prezzi di vendita diminuiscono e sono anche state fatte delle scelte, delle volte che insomma non hanno tenuto in adeguata considerazione il pragmatismo che è necessario anche per realizzare la transizione verde. Quindi abbiamo aumentato le risorse per il comparto agricolo, abbiamo aumentato le risorse sulla sanità, abbiamo messo oltre 6 miliardi su transizione 5.0, quindi proprio sul tema della transizione, della innovazione delle aziende. Perché? Perché come questo territorio dimostra molto bene, noi dobbiamo sempre ricordarci che non è lo Stato a produrre ricchezza. Lo Stato non crea ricchezza, la ricchezza la producono le aziende con i loro lavoratori. Quello che compete allo Stato è mettere queste persone nelle condizioni di lavorare il meglio possibile, perché più queste persone producono ricchezza e più anche lo Stato guadagnerà con la parte di risorse che torna per il tramite delle tasse che vengono pagate allo Stato italiano e che possono essere redistribuite possibilmente in modo equo. Stato guadagnerà